Buonasera, vi do il benvenuto alla Scuola Normale, un'occasione importante per la scuola, un po' un ritornare all'origine per la scuola. Come tutti sapete la prima missione della Scuola Normale alla sua fondazione era proprio questa, era proprio quella di formare insegnanti. Nel tempo la missione della scuola è cambiata, io preferisco dire sia ampliata e quando abbiamo appreso dell'iniziativa dell'Accademia, in particolare del suo Presidente, mi congratulo con lui per la determinazione con cui la sta perseguendo, l'ho appreso non da lui naturalmente, l'ho appreso qui localmente dalla professoressa Marini. Siamo stati subito tentati di collaborare, abbiamo cercato modi di renderci utili. Oggi inizia un percorso, credo, un percorso per noi importante. Questo primo passo nasce sotto i migliori auspici con la presenza appunto del Presidente Maffei e anche delle autorità locali, l'assessore all'istruzione sia alla provincia sia al Comune. Ringrazio molto entrambe per essere qui con noi e queste persone ci porteranno il loro saluto. Lamberto in particolare ci parlerà anche del progetto. Ti ringrazio Lamberto.